Carissimi, inizio questa puntata di Duc in Altum con il ricordo doveroso che abbiamo già fatto qui a Forlì, ma che è comunque opportuno richiamare, e il ricordo è quello dell'Annalena, Annalena Tonelli, che tredici anni fa è data del suo martirio. Ci siamo trovati in buon numero presso la chiesa del Buon Pastore, dove dopo la celebrazione della messa presieduta dal Monsignor Fabri, vicario generale, e il nipote Andrea Saletti, in un bel intervento nutrito, ha presentato il libro Lettere dalla Somalia di Annalena, Lettere che sono state scritte dall'85 al 95, un decennio. Questo lo si può trovare presso la libreria del Duomo, in via Solferino, ed è forse la maniera migliore per poter entrare nella spiritualità fortissima di questa donna, spiritualità atipica, che però dà possibilità a tante persone di riscoprire e di vivere la vita secondo il Vangelo con la spiritualità di Charles de Foucault e della testimonianza vera fino al martirio. Quindi mi raccomando, il libro intitolato Lettere dalla Somalia lo trovate, io penso, anche nelle vostre parrocchie, ma soprattutto nella libreria del Duomo in Forlì. E il secondo avviso che vi do è molto bello, ecco perché mi fa vivere un po' l'esperienza che ho fatto anch'io con i ministranti, e cioè domenica prossima, 9 ottobre, con il ritrovo a San Mercuriale per un grande gioco che farà impazzire la piazza e la città, ecco, c'è il giubileo dei ministranti. Dopo aver fatto questo gioco, dopo aver divertito, alle ore 5, alle 17 del pomeriggio si va in processione verso la cattedrale e siccome tutti i chierichetti ministranti saranno vestiti con il loro abito sarà un bello occhio da vedersi, anche bello da contemplare come questi ragazzini, per bene, vestiti in maniera ordinata, si presentano al Duomo passando per la Porta Santa e così dare consistenza anche alla loro partecipazione all'Anno Santo. Ecco, sono invitati logicamente tutti i ministranti della diocesi, ma compresi anche i loro genitori, e questo raduno è sintomatico della bellezza di avere tanti, tanti ministranti che compiono un bel gesto di partecipazione nelle proprie parrocchie, in aiuto ai sacerdoti e ai propri parrocchi, ma anche del trovarsi assieme poi con il vescovo in cattedrale per la celebrazione della messa. Bene, dopo avervi date questi due avvisi, adesso vi immetto sul tema vero e proprio di questa trasmissione, che è quella della presentazione delle linee pastorali cristiani adulti e cittadini responsabili, che è stata fatta in Duomo in maniera realmente solenne, anche con la diretta televisiva. Gianluca, vai col filmato. Ecco carissimi, questa è la sigla della presentazione, della serata, che abbiamo celebrato in Duomo con il vescovo come inizio dell'anno pastorale della diocesi, fatto in maniera molto bella, non solo con la presentazione delle linee pastorali del 16-18, ma anche perché questa presentazione è stata messa in mano a tutti i responsabili partecipanti ai consigli pastorali parrocchiali, ma anche perché è un gesto bello che col vescovo molti cristiani responsabili, secondo me si poteva essere di più, mi dispiace che alcuni movimenti non fossero presenti, ma questi gesti non sono di una parte, sono della Chiesa. Ecco, e quindi adesso seguiamo la diretta in parte presentata a pezzetti, è logico perché è andata a lungo nella diretta della cattedrale, ma adesso io ho solo pochi minuti, e vi faccio vedere il modo col quale Teleromagna ha presentato la Santa Messa, il rito, e con il commento di Monsignor Appi e anche di due laici impegnati. Vai con le immagini. Una serata, una serata particolare è quella che ci stiamo prestando a vivere insieme ai fedeli della diocese di Folì Bertinoro, ai colpi intermedi, cioè le varie associazioni ecclesiali, ma anche i laici, quindi organizzazioni laicali, tante parrocchie, gente anche comune, che si avvicina a questo momento importante, ma anche interessante sotto il profilo della non solo cultura religiosa, ma anche cultura civile e sociale, per capire cosa sia, perché è un po' estemporanea anche per le grandi tv parlare di anno pastorale, linee pastorali, che nient'altro sono che le linee pastorali di un anno, 2016-2017, che si innervano in un biennio che è 2016-2018. Ovviamente avete capito dalla sigla Duomo di Folì, Cattedrale di Folì, all'interno, io sono qui con due ospiti che mi aiuteranno, aiuteranno me e voi per inquadrare il tema delle linee pastorali, questo libretto che vedete verrà distribuito fra poco, contiene, il titolo è appunto Cristiani, adulti, cittadini responsabili. È un titolo molto impegnativo, Cristiani, adulti, cittadini responsabili, perché impegna i laici, i cristiani, ad essere nel contempo adulti come credenti, adulti quindi che si assumono le proprie responsabilità, che conoscono gli insegnamenti della Chiesa, che conoscono però anche la realtà in cui sono inseriti, sono anche cittadini, quindi cristiani adulti, cittadini responsabili. Insomma è un programma, è un compito non facile per i cristiani e ovviamente la nostra diocesi ha avuto un grande coraggio a scegliere queste tematiche che sono poi state dettate da Papa Francesco nel convegno di Firenze quando ha detto nelle diocesi, nei movimenti, nelle nostre chiese locali, si rifletta su quanto io ho detto nella Evangelii Gaudium. Qui alla mia sinistra Luciano è stato presentato come collaboratore della Pastorale Sociale del Lavoro della nostra diocesi, ma ci leggo un rapporto di amicizia nato dalla collaborazione delle due associazioni laicali, secondo me per un'antonomasia, almeno per quanto riguarda l'età adulta, che sono l'Azione Cattolica e le Acli. Luciano è stato fino a qualche mese fa presidente provinciale delle Acli e questo ci ha dato l'opportunità di collaborare, di conoscerci e sicuramente di lavorare assieme a questo progetto pastorale. Il riferimento alla giornata mondiale della gioventù. Secondo me la prima parte del titolo di queste linee pastorali è un po' l'anello di giunzione tra quello che si è celebrato a luglio per la giornata mondiale della gioventù a Cracovia e quello che siamo chiamati a fare qui nella nostra diocesi, ovvero quello di crescere nella fede, diventare adulti nella fede perché solamente cristiani e adulti possono assumere con consapevolezza il ruolo di cittadini responsabili. Io ho presentato Luciano Rovaioli come collaboratore della Pastorale del Lavoro, però qui io chiedo a Mons. Franco Appi di avvicinarsi perché il vero responsabile della pastorale del lavoro, non solo a livello diocesano, ma per l'esperienza che gli ha maturato in giro per l'Italia, qui in questo testo cristiani, adulti, cittadini responsabili c'è una piccola rivoluzione rispetto al passato perché come vedremo più avanti ci sono delle indicazioni fortemente operative. E questo forse è il punto più significativo, che si arrivi a indicare cosa fare. Quindi non solamente buoni pensieri, non solamente pensieri che ci spingono ad agire, ma anche un cammino, un itinerario per agire. Tutto qua non è poi... A volte le cose importanti si dicono in poche parole, in questo caso è una cosa molto importante, ma non c'è bisogno di farlo molto lungo, no? C'è un itinerario per agire, ognuno nel suo territorio. Quindi è come quando Papa Francesco dice chiese in uscita, uscite fuori, andate. Assolutamente, questa è la chiesa in uscita. Una chiesa in uscita che lui dice preferisco in uscita, magari ferita, magari no? Qualche cosa può saltare fuori quando si è in uscita, piuttosto che malaticcia perché rimane chiusa dentro. Io mi sono chiesto che cosa vuol dire essere malaticcia, in questo caso ho pensato a quello che può avvenire nelle sacristie, il pettegolezzo, lui ha parlato tante volte del pettegolezzo, le gelosie, le sopraffazioni, le piccole cose che possono capitare proprio in ambienti chiusi. Quando si esce il problema non esiste più perché fuori ci sono problemi molto più gravi da affrontare. Evangelizzare non significa cristianizzare, significa lanciare il messaggio del Vangelo di amore e di pace. E soprattutto non significa battezzare immediatamente e portare tutti dentro al gregge. Il problema è un altro, è essere testimoni dell'amore di Cristo, è essere testimoni dell'amore fraterno. Questo è il punto forse più qualificante e il resto verrà. Noi dobbiamo essere testimoni di questo, di Cristo, questo fratello universale. Non sono venuto per i sani e per i malati, poi con le parabole della misericordia, della pecora smarrita, della dacma smarrita, c'è più feste in cielo per un peccatore che si è pente che per 99 giusti. Io non vorrei pensare che Gesù pensava in 99 giusti come questi insieme di pecoroni silenziosi, noiosi, mentre la vivacità stava da un'altra parte. Noi dovremmo essere un gregge fedele il più possibile, ma certamente non noiosi, non pecoroni, quando si parla di noi come pecore non vuol dire che dobbiamo essere dei pecoroni, vuol dire che dobbiamo essere certamente uniti come un gregge, ma capaci di creatività. La Chiesa nasce per essere in uscita, non nasce per rimanere dentro. La Chiesa è tale se è missionaria, se va ad annunciarlo, non se se lo gode e è chiuso dentro, perché già lo tradisce nel momento in cui se lo gode, se si può usare questa parola, chiusa dentro le proprie mura. Monsignor Franco Appi, vogliamo dire ai nostri telespettatori, perché noi lo diamo per acquisito, io perché qualcosa capisco, ma cosa sono le linee pastorali, l'anno pastorale? Sono delle indicazioni di massima che orienti tutta l'attività pastorale della Chiesa con un'attenzione specifica ad alcuni settori, in questo caso sono gli adulti, nella loro responsabilità sia dentro la Chiesa sia e soprattutto nei confronti della società. le linee pastorali sono queste, le indicazioni generali verso i quali tutti dovrebbero incamminarsi, ecco le linee del cammino, è una cosa molto semplice. Una volta si chiamava progetto pastorale, però il progetto ha anche di rigido, linea invece è un suggerimento, un'indicazione, un cammino da compiere e così si va in quella direzione con le forze che si hanno ovviamente, ma avendo un'idea chiara di dove si deve andare. Quello che ci viene consegnato questa sera... Che non è il semplice libretto che vedete qui in questo momento, cristiani, adulti e cittadini responsabili, il contenuto. È una meta, è una meta che ci viene chiesto di raggiungere, di progettare insieme e qui mi rallaccio al discorso della differenza tra linea e progetto. La linea lascia spazio a una partecipazione da parte nostra come associazioni, come aggregazioni laicali, come semplici parrocchiani fedeli che appartengono alle nostre comunità territoriali. Ormai è noto che la vecchia struttura parrocchiale incomincia a mostrare i segni del tempo e si sta promuovendo un soggetto nuovo, che è quello dell'unità pastorale, un accorpamento di queste parrocchie salvaguardando comunque l'identità delle comunità parrocchiali esistenti. È un qualche cosa di nuovo, è un libro bianco che ci viene consegnato dove ci viene chiesto di scrivere il nostro contributo. Il nostro contributo che tipo di stile deve avere. Quello che diceva prima Don Franco, quello di uscire, quello di andare incontro a coloro che stanno al di fuori delle nostre comunità. Perché? Perché il principio evangelico è quello. Annunciate la buona notizia. La buona notizia si annuncia che questa buona notizia ancora non è arrivata. Monsignor Pizzi, con i suoi collaboratori, consegna a voi questo passaggio. Chiedo, e poi il discorso di prima, unità pastorali, chiedo ai rappresentanti delle unità pastorali e delle realtà ecclesiali, quindi tutte, voi, ma tutti i movimenti ecclesiali che hanno la loro specificità, se dici il loro carisma, tutti quanti, rappresentati nel Consiglio Pastorale di Ocena il rinnovo della loro disponibilità che sia espressione della volontà della Chiesa locale. A tutti! Eh sì, infatti, mentre Papa Francesco è nei paesi lontani, noi siamo qui a Forlì, nelle nostre parrocchie, nei nostri gruppi di parrocchie, che sono le unità pastorali, nelle nostre associazioni, siamo padri di famiglia, siamo responsabili di associazioni. Ci viene chiesto, a noi, viene chiesto a noi laici, di essere, di tradurre nel concreto queste linee. Sono linee, ovviamente, ma danno anche qualche indicazione, non solamente linee di indirizzo, ma qualche indicazione concreta sul metodo, su come tradurre nel concreto il rapporto tra fede e impegno. Spesso noi rischiamo di essere un po' troppo chiusi solo nelle pratiche di culto, che sono pure importantissime, perché in realtà, anzi, è necessaria una solida formazione di base, e poi siamo impegnati quotidianamente nei nostri ambienti. Ora, le linee pastorali, mi pare, fin dal titolo, contenuti nella crisi dell'impegno comunitario. Quindi, è già una prima riflessione. L'impegno comunitario, oggi, in alcune realtà tradizionali, è un po' in crisi. Però abbiamo visto che c'è un grande desiderio, da parte delle persone, dei cittadini, comunque, di partecipare. Io non sottovaluterai, per esempio, alcuni eventi successi in queste ultime settimane, il più fresco è lunedì 19, che oltre 300 persone abbiano partecipato al Teatro Novelli, a una riflessione per capire, per esempio, le tematiche sociali, il referendum di prossimo ottobre. Beh, io non lo sottovaluterei. C'era il desiderio non solo di dire cosa dobbiamo votare, che non si è detto, ma qual è il problema. Oppure, un anno fa, ricorderete tutti, oltre 200 persone hanno partecipato alla presentazione dell'enciclica Laudato Si. E così, quando si tratta dei temi sociali, c'è, sì, la constatazione della crisi, dell'impegno nel sociale, ma c'è anche un grande desiderio, comunque, di dire la nostra, di impegnarsi, di capire. Noi non abbiamo bisogno, prima parlavamo di pecore, non abbiamo bisogno di pecore che seguono solamente, abbiamo bisogno di persone che condividono le responsabilità dentro la Chiesa e che assumono su di sé le responsabilità della città, della politica. E questo significa molto di più di quanto non si sia detto finora. Fra le indicazioni, noi chiediamo che vengono rianimati i corpi intermedi, che se non ci sono possibilità di entrare nei corpi intermedi, perché sono chiusi, ideologizzati, eccetera, che siano sui territori, le stesse comunità cristiane a fare l'analisi della problematica e a suggerire delle soluzioni agli amministratori, che siano i comuni, i piccoli comuni, offrono anche una grande possibilità al riguardo, oppure ai quartieri, oppure arrivare anche a proporre qualcosa all'amministrazione comunale della città. Perché no? Di fatto è solo così che si impara poi a entrare nella dimensione. Noi pensiamo, per esempio, a che questo grande movimento che c'è nella società, che viene chiamata antipolitica, in realtà è una sensibilità politica a cui non c'è una risposta adeguata. Non che noi riteniamo in grado di dare questa risposta adeguata. Credo che la risposta adeguata vada cercata, però. Non penso che possano essere i leader a darcela. E questo bisogna cominciare a pensarlo. Com'era? Beato il popolo che non ha bisogno di eroi? Di eroi. Ebbene, noi abbiamo trasformato e beato il popolo che non ha bisogno di leader perché partecipa, perché si chiede, perché cerca di dare delle risposte ai suoi problemi. Facendo così, saranno meno quelli che votano per emozioni e di più quelli che votano per ragioni. Io... La differenza fra ragioni e emozioni. Non voglio dire pancia, voglio dire emozioni. Emozione e ragione. Sono i problemi di fronte ai quali ci poniamo per cercare insieme le possibili soluzioni se ci riusciamo. Se non ci riusciamo, dobbiamo continuare a ragionarci sopra perché non possiamo de-responsabilizzarci pensando che ci devono pensare altri. Questo credo che sia il punto... Condividete? Prego. Assolutamente sì. Vorrei anche che fossimo convinti che non siamo soli. Abbiamo alle spalle alcuni insegnamenti proprio sulle tematiche sociali che non nascono ora, ma partono da lontano. Proprio la pastorella del Dall'Ori in questi ultimi anni ha chiamato, oltre a organizzare la scuola di formazione tutti i lunedì di quaresima, ha tentato di organizzare, la chiamiamo la scuola in periferia, dei moduli, ne abbiamo fatto a Predappio, a Meldola, quest'anno si tenterà nella zona di Caossi, Magliano, San Martino. Uno dei primi moduli è alla storia della dottrina sociale della Chiesa, però con riferimento diretto agli anni, all'epoca in cui sono usciti i grandi documenti che lei ricordava, dalla Rerum Novarum alla Quadragesimo Anno, all'Octogesimo Advenies e via via, al Concilio, tutta la tematica di Paolo VI, di Giovanni, insomma, qui andremo avanti per ore. Poi abbiamo fatto anche un secondo modulo, guardi un po', sulla Costituzione, sulla base del nostro vivere civile. Quindi direi che l'impegno c'è, e poi non solo, ma c'è anche una solida base alle spalle. Il problema è che bisogna impegnarsi, occorre conoscere la situazione, occorre poi alla fine dare anche dei giudizi, ma prima bisogna conoscere. Condivido le parole di Cardinal Bagnasco, perché effettivamente alla base c'è questa grande esigenza di formazione del proprio pensiero critico alla luce di una fede illuminata, e quindi riprendo il titolo cristiani adulti, cittadini responsabili, la nostra fede deve aiutarci a illuminare questa formazione del nostro pensiero critico. Ed è bello accogliere questo appello, questo invito, ma come sottolineava Don Franco, un voto informato, un voto che è stato meditato, è stato approfondito, ha dato la possibilità a noi di confrontarci su alcuni temi che per troppi anni, troppi anni, un po' abbiamo tralasciato. Anche noi come associazione di azione cattolica, per troppi anni ci siamo concentrati più su temi ecclesiali, lasciando i temi sociali, i temi politici un po' marginali alle nostre attenzioni. Negli ultimi anni, prima a livello nazionale, poi finalmente anche a livello decisano, ci siamo resi conto appunto di questa necessità fondamentale che i nostri aderenti, in primis, ma in generale tutti i fedeli delle nostre comunità hanno bisogno, hanno bisogno di formare una propria coscienza, un proprio pensiero critico illuminato dalla fede, perché la fede è lo strumento per capire e interpretare la realtà. È stata una trasmissione un po' atipica, siamo abituati alla Santa Messa, alla celebrazione ufficiale, questa dei vespri cantati, dice Don Franco, con l'emozione, anche il sentimento. È una cosa diversa, si è sentita e poi alla fine la consegna di queste linee pastorali. C'era una tradizione che voleva nelle parocchie anche il vespro dominicale, ma purtroppo si è lasciato andare ed è stato un male, perché non c'è solo la Messa. La preghiera della Chiesa si esprime anche nella liturgia delle ore e liturgia anche quella è preghiera della Chiesa, senza togliere nulla ovviamente al valore dell'Eucarestia, che è sempre il centro, il culmine di tutta quante la vita di una comunità cristiana. È stato eccellenza, questo è un anno importante per la cristianità, per il cattolicesimo. Stiamo andando, tra l'altro, verso un altro anno importante. Oggi il Papa è in Azerbaijan, a Tbilisi in Georgia, e poi prossimamente andrà a questi riferimenti. Io lo faccio sempre come un signor Franco Appi, e cioè il Papa andrà a Lund, in Svezia, che è un po' la capitale delle conferenze delle Chiese riformate, perché il 2017 è l'anno di Lutero, quindi è l'anno della cristianità, del cristianesimo. E vuole essere un segno, un invito, senz'altro, anche a ricomporre l'unità della Chiesa, o comunque a camminare insieme per tutti coloro che si riferiscono Gesù Cristo, che si dicono discepoli di Gesù. Forse non sarà immediato, comunque non sarà possibile subito una unione, unità dottrinale, ma su diversi punti il Papa sollecita che ci si muove insieme. Cerenza, mi perdoni, vorrei concludere con questo. Noi sentiamo, con Luciano, Mirko, ne abbiamo parlato, con Don Franco durante questa diretta, anche il peso. Lei ci consegna un documento che pesa molto. Mi pare che rispecchi e vogliono tradurre in concreto quello che il Papa va dicendo in vari modi, in diverse occasioni, che l'essere cristiani non si riduce all'essere in Chiesa, per quanto sia fondamentale l'ascolto della parola di Dio, la celebrazione dei sacramenti, ma poi la fede va vissuta nella vita quotidiana, nella vita, nella società. Noi vogliamo sottolineare proprio questo impegno di formazione alla vita sociale, alla vita politica. Non tanto di partito, quanto di partecipazione alla vita sociale. Quindi ancora ritorna il titolo Cristiani, adulti, cittadini, responsabili. Cristiani, adulti, cittadini, a presto. Cristiani, adulti, cittadini,